La vita di Chiara Ferragni è sempre al centro dell'attenzione mediatica, specialmente riguardo alla sua relazione con Fedez. Benvenuti su Gossip Italia News, notizie in tempo reale. Metti un like al video, iscriviti al canale e attiva la campanella per rimanere sempre aggiornato. In queste ore, un'indiscrezione ha catturato l'attenzione di tutti i fan della coppia. Secondo quanto riportato da Alberto Dandolo nella rubrica Non tutti sanno che, su oggi, sembra che qualcuno stia lavorando dietro le quinte per organizzare un incontro tra Chiara Ferragni, Fedez e Papa Francesco. L'evento potrebbe svolgersi in forma privata a Santa Marta. Al momento, non ci sono molte informazioni aggiuntive su questo scoop che ha lasciato i fan increduli e curiosi. Resta da vedere se questa indiscrezione si rivelerà vera o falsa, e chi potrebbe essere dietro l'organizzazione di questo presunto incontro. La coppia Ferragnes non smette mai di stupire e di tenere viva l'attenzione dei media e dei loro numerosi seguaci. Non resta che attendere ulteriori sviluppi e vedere se verranno rivelati altri dettagli nelle prossime ore. La curiosità è alle stelle.